un uomo di studio non gli piaceva né di comandare né dubbi dire che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona alla buonora ma lui servo no e se pregato le prestava un'occorrenza all'uffizio della penna era perché ci aveva il suo genio del rimanente anche in questo sapeva a dir di no quando non fosse persuaso di ciò che lei voleva fargli scrivere la si ingegni diceva in quei casi faccia da sé che la cosa le par tanto chiara donna prassede dopo aver tentato per qualche tempo e inutilmente di tirarlo dal lasciar fare al fare si era ristretta a brontolare spesso contro di lui a nominarlo uno schiva fatiche un uomo fisso nelle sue idee un letterato titolo nel quale insieme con la stizza c'entrava anche un po di compiacenza l'incipit del capitolo 27 dei promessi sposi mostra la voce narrante del romanzo che rivolgendosi a noi lettori ricorda che c'è una guerra in corso la guerra tra amandova e non ferrato dice che finora ce ne siamo occupati poco e che da adesso in poi sarà il caso di occuparcene un po di più proprio per l'intelligenza della nostra storia cioè proprio per meglio entrare all'interno della vicenda che stiamo seguendo la vicenda di renzo e lucia questo incipit prelude a quello che sarà il tono dominante di tutta la terza parte del romanzo nella quale la grande storia comincia a guadagnare sempre più spazio togliendone alla piccola storia di renzo e lucia che talvolta sembra rimanere un po in ombra fatto questo che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno non pochi studiosi hanno infatti affermato che dare tanto spazio a uno sfondo storico che a tratti sembra diventare il vero e proprio protagonista della narrazione è stato forse un errore da parte di manzoni anche se c'è da dire che la storia nei promessi sposi non è mai stata un puro e semplice pretesto un puro e semplice sfondo è sempre stato un elemento centrale della narrazione si può dire anzi che i promessi sposi è il romanzo che cerca di indagare il ruolo dell'uomo nella storia a riprova di ciò si possono menzionare le pagine in cui la storia diventava protagonista già prima della terza parte del romanzo penso ai capitoli dedicati ai tumulti del pane a milano al racconto della carestia ma penso anche a personaggi come fra cristoforo come federico borromeo l'innominato il conte zio che sono sì personaggi interni alla macchina del romanzo ma sono anche vere e proprie incarnazioni dello spirito del tempo dello zeitgeist dunque non credo sia sbagliata la scelta di manzoni di dare sempre maggior spazio alla grande storia ad ogni modo nel prosieguo dell'incipit la voce narrante colloca la guerra tra monferrato e mantova nel contesto della politica europea mostra il ruolo della spagna i magheggi di richellier la presenza di venezia eccetera il suo intento però non è documentario è piuttosto quello di evidenziare una verità morale quella verità morale in virtù della quale noi possiamo dire che la storia è anche il luogo in cui gli umili subiscono non solo le angherie ma anche i capricci dei potenti è il luogo in cui quella gente meccanica e di piccolo affare di cui il narratore ha parlato nell'introduzione del romanzo subisce le iniziative di classi dirigenti completamente avulse dalla realtà e questa verità la voce narrante la mostra con grande ironia per esempio nel descrivere l'intervento bellico spagnolo in italia a spagna cerca una ragione per mobilitare i suoi soldati in italia perché una guerra senza ragione non sarebbe una guerra giusta grande ironia qui quale guerra può mai avere una ragione vuol dirci il narratore quale guerra può mai essere giusta ma soprattutto quale ragione può mai essere una ragione se non si impone con evidenza e va anzi cercata con lanternino non sarà una ragione sarà un pretesto la storia viene trasformata in un teatro sembra suggerirci la voce narrante poi ancora sempre in questo incipit ricompare la figura di don gonzalo fernandez de cordova governatore di milano che viene letteralmente sbeffeggiato viene presentato come un guerrafondaio inconcludente che non trova soddisfazione da questa guerra perché non si pensi che le guerre sono tutte rose ecco qui si vede la completa estraneità di questo individuo dalla condizione degli umili su cui pure dovrebbe essere responsabile nei cui confronti pure dovrebbe essere responsabile lui interpreta come gravi patimenti quelli che non sono altro che i mancati conseguimenti dei suoi obiettivi non tiene minimamente conto delle infinite sofferenze a cui sottopone le persone su cui governa insomma manzoni prende la storia come strumento volto a evidenziare una verità morale e qui ce n'è abbastanza per mettere in discussione il luogo comune scolasticamente molto divulgato secondo cui manzoni sarebbe autore di un romanzo storico con i promessi sposi ma da questo punto di vista rimando alla lettura del saggio del romanzo storico realizzato da manzoni nel 1850 a partire da una lettera scritta anni prima a ghete ad ogni modo il capitolo 27 non ha la guerra per tema centrale questa occupa l'incipit del capitolo ma terminata questa sequenza la voce narrante torna a occuparsi dei personaggi torna a occuparsi di renzo e agnese per esempio che danno vita a un esilarante carteggio torna a occuparsi di lucia che cerca in virtù del voto fatto di dimenticarsi di renzo ma non ci riesce in parte perché non può dimenticarsi dell'uomo che ama in parte perché c'è lì donna rassede che con l'intento di toglierglielo dalla mente gliene parla in continuazione e poi ancora la voce narrante parla anche della biblioteca di don ferrante biblioteca che è come dire la rappresentazione plastica dell'ideale di cultura proprio di un erudito del seicento un uomo molto attento e preciso nel catalogare informazioni assolutamente inessenziali e inutili più in generale si può dire che questo capitolo il capitolo 27 mostra l'inizio di un lento ma progressivo riavvicinamento tra renzo e lucia riavvicinamento che ha inizio nel momento in cui leggendo le lettere che gli ha inviato agnese renzo capisce che lucia ha fatto voto di castità in quel momento gli viene data la parola c'è il discorso diretto di renzo che dice che lui non vuole e non si metterà in pace il cuore quella donna è sua deve essere sua fatto questo che ci fa capire che tra poco succederà qualcosa di nuovo questo riavvicinamento tra renzo e lucia pone però un dilemma il dilemma della provvidenza è chiaro infatti che penso e lucia si ritrovano grazie al dispiegarsi del disegno della provvidenza nella storia ma questo vuol dire anche che le grandi tragedie della grande storia sono in qualche misura volute e avallate dalla provvidenza sono strumenti che la provvidenza usa per far sì che renzo e lucia si incontrino può mai dio avallare violenza e atrocità di questo tipo punto interrogativo manzoni che è un cattolico illuminato illuminista intelligente non bigotto non ottuso non casualmente è molto prudente nel far menzione dell'intervento della provvidenza in queste pagine è opportuno fare qualche considerazione sulla biblioteca di don ferrante ho detto prima che è la biblioteca tipica di un erudito del seicento che rappresenta l'ideale di cultura degli eruditi seicenteschi quindi una cultura enciclopedica molto attenta a collezionare informazioni inutili bene eugenio donadoni in proposito ha sostenuto che don ferrante è un passatista nel seicento che è il secolo in cui la scienza aristotelica viene messa alla berlina da bacone cartesi o galileo galilei lui dice che aristotele è il filosofo esattamente come si faceva nel medioevo nel seicento che è il secolo della rivoluzione scientifica lui studia l'astrologia nel seicento che è il secolo in cui ormai è chiaro che la cavalleria non ha più alcun futuro lui è particolarmente esperto proprio in materia cavallerisca insomma nella disputa tra antichi e moderni nella creia des anciens e des moderni don ferrante secondo il donadoni sarebbe sicuramente dalla parte degli antichi è un giudizio parzialmente corretto quello di donadoni anche se va sottolineato che la voce narrante del romanzo ci dice che don ferrante è disposto a dare ragione ai moderni quando hanno effettivamente ragione insomma questo erudito secentesco è soprattutto il prototipo del dotto caratterizzato da grande cultura e nessun costrutto il dotto che ritiene che la prassi culturale consiste essenzialmente nel chiudersi in una biblioteca nel confrontarsi coi libri e nel tenersi al riparo dalla storia atteggiamento questo che chiaramente il cattolico e illuminista alessandro manzoni non può assolutamente condividere anche perché nella chiusa di questo capitolo ci propone l'immagine della storia come un turbine un turbine pronto a spazzare via le foglie anche se queste si vanno a nascondere nei più riposti anfratti grazie 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 grazie